Ciao a tutti gamer, siamo qui oggi con il gioco Azzas e Schiedi Noalala per spiegare come funziona e come ottenere il trofeo grazie all'Eggiadria. Allora, questo trofeo per ottenerlo bisogna distruggere 30 oggetti fragili, il conteggio è cumulabile quindi non vanno fatti in modo consecutivo. Per poter fare questo trofeo bisogna avere questo talento nell'albero dei talenti che si chiama impatto in corsa, che vuol dire che correndo invece di andare sopra gli oggetti fragili, li distruggerà. Quindi per ottenere il trofeo bisognerà correre così verso gli oggetti e si distruggeranno. Fate questa cosa per 30 volte e otterrete il trofeo. Se il video vi è piaciuto vi invito a mettervi mi piace e iscrivervi al canale. Alla prossima, ciao!